ciao a tutti ragazzi oggi siamo su call of duty.coops 3 precisamente sulla modalità zombie sulla nuova mappa d'air asendrack per mostrarvi un nuovo glitch con il quale potrete essere immortali questo glitch ragazzi potrà semplicemente essere fatto da soli senza avere bisogno di un compagno quindi potrete anche mettere partita in singolo volendo dovrete aprire qualche porta in pratica le prime due porte sulla destra della locazione iniziale e venire precisamente qui dove esce il drago ed effettuare il salto che ho fatto prima da quella posizione aprirete il cancelletto di legno e salterete semplicemente adesso ve lo faccio rivedere uccidiamo un altro po di zombie per sicurezza come vedete ragazzi di zombie si raggrupperanno tutti qui in questo punto dove voi salterete e sarà da qui semplicissimo ucciderli e potete fare un sacco di punti e salire tranquillamente con i prestigi quando saranno rimasti pochi zombie e magari avrete finito di munizione semplicemente scendete da questo punto e andrete di prendere le munizioni tutto quello che vi serve e rifarite il glitch una volta però che il drago non ci sarà più sarà un po più difficile effettuare il glitch proprio perché non ci sarà un punto di appoggio su cui saltare ve lo faccio rivedere l'ultima volta non è facilissimo però dopo un po vi abituerete prendo le munizioni così se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi ciao a tutti ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.